iscrivetevi al mio canale youtube vi ricordo che è gratuito e attivate la campanella che notifica la pubblicazione dei nuovi video ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube oggi studiamo il kankan di off and back prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale di seguire tutti i link in descrizione che vi riportano ai miei corsi di chitarra ai miei social e ai miei corsi di ukulele vi lascio i link in descrizione è un arrangiamento ficker style che ho pensato per chi suona l' ukulele già da diverso tempo il brano non è semplicissimo è anche abbastanza veloce e utilizzo tutte le dita possibili della mano destra cioè pollice indice medio e anulare nella tablatura troverete scritta la diteggiatura della mano destra utilizzerò spesso il pollice per la quarta e per la terza corda e l'anulare per la prima e per la seconda corda oltre ovviamente all'indice al medio vi suono il brano lentamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti con questa diteggiatura sicuramente c'è bisogno di più studio però poi ci permette delle velocità sicuramente diverse rispetto al classico indice medio l'accompagnamento l'ho eseguito in questo modo suonando sempre pollice indice medio e anulare su ogni accordo proviamo a suonare il brano lo troverete in 2 versioni una rallentata e una in velocità originale grazie a tutti 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 vi chiedo di mettere il solito like sotto il video ci vediamo al prossimo tutorial ciao per iscriverti al mio canale youtube clicca qui per seguire altri video tutorial clicca qui